siamo qua in via montiurali dove un capannone ha preso fuoco ci sono i vigili del fuoco al lavoro che stanno cercando di spegnere le fiamme come potete vedere in questo momento il capannone sta facendo veramente molto molto fumo la zona è stata tutta chiusa dalla polizia municipale in questo momento non può entrare nessuno vedete il fumo che è fortissimo adesso dobbiamo allontanare anche noi